Eccoci insieme ancora questa mattina per parlare di medicina, di un ambito molto particolare della medicina che è la cardiochirurgia pediatrica. Qui con me con grande piacere ho il direttore della clinica di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, il professor Vladimir Ovida. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, un bel sorriso aperto che serve ovviamente per comunicare l'ottimismo quando si tratta di bambini con il cuore malato. Ecco, è un ambito molto particolare ma come sappiamo i problemi cardiologici sono tra quelli che purtroppo affliggono maggiormente l'umanità. I bambini fanno eccezione o anche questo tipo di patologie sono tra quelle che hanno più incidenze anche nei bambini? Le cardiopatie congenite sono un ambito che riguarda le malformazioni congenite, quindi alla fine l'incidenza è relativamente fissa, nel senso che un bambino su 800, un bambino su 1000 può avere una patologia congenita al cuore. Di queste malattie circa il 50% vanno incontro a qualche tipo di trattamento durante l'arco della vita. Il trattamento può essere precoce in alcune malattie che sono molto gravi oppure può essere fatto anche dilazionato nel tempo in alcune malattie meno gravi. Però sono tutte malattie che comunque possono essere curate. Ecco sappiamo che anche il cuore come tutti gli organi cresce nel corso della vita, quindi nel campo pediatrico un po' mi ha risposto quando è meglio intervenire? Ma allora la chirurgia, la cardiochirurgia pediatrica si è sempre più spostata verso l'età neonatale, nel senso che comunque si è capito che correggere le malformazioni in un tempo precoce normalizza non solo il cuore ma quelli che sono anche gli organi vitali, gli organi secondari che dipendono dal cuore. Quindi mano a mano che la tecnica si è affinata, mano a mano che la tecnologia ci ha aiutato e anche le nuove conoscenze scientifiche hanno permesso di spingersi sempre più verso l'età neonatale. Quindi il bambino che nella maggior parte dei casi adesso ha una diagnosi ancora in utero e quindi nasce protetto perché comunque nasce in alcuni centri che comunque hanno sia la chirurgia pediatrica ma anche la cardiologia, la terapia intensive può essere corretto e protetto fin dalla nascita e seguire un percorso che comunque fa sì che dei professionisti entrino nella vita di queste famiglie che alle volte sono un po' spesate da questa notizia che hanno della diagnosi uterina. Quasi sempre immagino. E quindi di essere guidate in un percorso che cerchiamo ovviamente di fare insieme. Allora lei mi sta dicendo che i cardiochirurghi vengono coinvolti già appunto prima ancora che il bambino venga al mondo. Ma sì, oggigiorno diciamo noi da tre anni abbiamo cominciato un programma per ricostruire questi cuoricini malati e quindi dare sempre più una personalizzazione a quello che è il trattamento per i pazienti. E per esempio noi abbiamo la possibilità mediante l'ecografia fetale di poter andare a ricostruire i cuoricini dei bambini ancora nella pancia delle loro mamme. Questa è la dimensione di un cuore alla ventesima settimana di gestazione di una cardiopatia congenita complessa che noi poi usiamo per spiegare ai genitori qual è la malformazione del loro bambino. Diciamo che viene fatto sia questo cuoricino che uno un po' più grande di modo che i genitori possano capire nel dettaglio quello che è un pochino la patologia del loro bambino senza uno schema capito? Proprio il cuore dei loro figli in mano quindi una cosa molto personalizzata. Cerchiamo di tradurre perché quello che lei ha detto è veramente rivoluzionario anche per quello che riguarda la capacità di studiare prima l'intervento, di poter agire con grande precisione. Sappiamo che un po' tutta la chirurgia ci sta stupendo in questa annata che facciamo di trasmissioni perché c'è stata una grande rivoluzione in tutte le sale operatorie. La tecnologia è entrata veramente in maniera preponderante come entrano le ricostruzioni tridimensionali degli organi. Questo organello che lei aveva in mano era appunto un cuore di un bambino alla ventesima settimana fatto con delle stampanti 3D che ricostruiscono perfettamente dalle ecografie, dalle TAC, dai vari esami, la forma e la malformazione. Ci sono dei sistemi, dei software che ci consentono di poter portare l'immagine bidimensionale a immagine tridimensionale e poi di poterla stampare mediante delle resine in tridimensione, ma tridimensione nel senso che l'organo viene ricostruito con una fedeltà incredibile. Può essere fatto in varie resine, tanto che alcune resine rigide noi le teniamo per sviluppare i counseling con i genitori, sia fetali che postnatali, mentre ci sono delle resine che sono invece un po' più morbide e quindi con queste resine noi abbiamo la possibilità di andare a simulare l'intervento chirurgico prima di andare in sala operatoria. Quindi la potenzialità di poter adeguare l'intervento chirurgico a quel paziente e di prepararci in maniera ancora più adeguata. Questo è importante perché non solo per il chirurgo, ma anche per i giovani chirurghi, perché ti dà la possibilità di poter simulare e di formarti in una maniera totalmente innovativa, che quindi garantisce una maggior sicurezza e quindi ti porta a sviluppare quello che è un trattamento personalizzato e sicuramente a meno rischio, perché comunque uno arriva già molto pronto in sala operatoria con questo. Quindi anche per esempio se ci fosse una malformazione molto piccola, ingrandendola si può visualizzarne tutti quanti i diversi aspetti e poi intervenire con più precisione? Diciamo che la stampa in dimensioni reali, uno a uno, ti garantisce di capire anche qual è la dimensione su cui tu andrai a operare e questo è molto importante perché la cardiologia pediatrica lavora sul piccolo, quindi alla fine è una microchirurgia. Ci sono dei sistemi invece che noi usiamo in parallelo, che sono la realtà virtuale, per cui noi abbiamo la possibilità di poter navigare ingrandendo all'interno dei cuori e questo ovviamente ti garantisce di cogliere quelli che sono dei dettagli molto più intimi dell'anatomia e di capire molto di più quello che sarà poi l'operato che devi andare a fare in sala operatoria. Ecco, qui infatti vediamo dietro di lei comparire un po' quello che voi andate a visionare, adesso ai miei occhi non dice niente questa immagine ma ai suoi sicuramente già dirà qualcosa. Sì, qui diciamo che la navigazione tridimensionale è un'esperienza, nel senso che vederla così su uno schermo non dice molto, il fatto che si è immersi in una realtà in cui entri all'interno del cuore, entri all'interno del cuore di quella persona che devi andare a operare qualche minuto dopo o il giorno dopo in sala operatoria e ti consente di vedere quelli che sono degli aspetti che usualmente in un cuoricino in dimensione reale non puoi cogliere. Quindi è un ulteriore passo avanti, no? Tanto che questo secondo me è sempre più verso quello che è la personalizzazione e la qualità di un trattamento, no? Cioè io non opero un cuore con questa patologia, ma opero il tuo cuore con la tua patologia che mi sono studiato nei dettagli prima e anzi te lo do in mano il tuo cuore per farti capire com'è fatto e quello che farò dopo. Ma credo che questo sia anche un approccio, per sommarginare un raffreddore, una febbre un po' più alta in un genitore, magari al primo figlio, l'allarme che creano. Avere una diagnosi di un problema al cuore sappiamo che può essere molto pesante per il cuore dei genitori. Quindi anche questo approccio, questo sorriso che lei ha in questo modo anche molto rassicurante attraverso anche questi strumenti sicuramente li aiuta in un percorso da affrontare non facile, insomma. Sai, io penso che sia un discorso molto di fiducia, nel senso che un genitore che è un bambino con una patologia al cuore fa un po' un salto nel vuoto, no? Perché non ha le conoscenze tecniche, si sente parlare di circolazione stracorporea, di un cuoricino che deve essere fermato e di un rischio, no? Perché le patologie al cuore hanno un rischio, anche di poter avere complicanze, no? Ed è ovvio che quindi io quando faccio firmare i consensi dico sempre che le mani, il rischio lo prendo io, però l'importante è condividere questo, no? E questo ovviamente l'informazione, la condivisione da fiducia, no? E quindi metti in un rapporto alla pari il professionista e il genitore in un percorso, dico io. Che quindi è molto chiaro, no? Però se uno capisce quello che uno va a fare, si sente affidato e quindi anche il percorso di aspettare fuori dalla sala operatoria in attesa diventa più sereno, anche se non lo è mai in realtà, perché avere il proprio figlio ammalato è sempre un grosso trauma. Anche se diciamo che come accade per tutti gli ambiti della cardiologia e della cardiochirurgia, la ricerca ha fatto veramente dei passi molto avanti, quindi anche nel campo pediatrico penso che quasi tutti i problemi siano affrontabili. Sì, diciamo che ovvio che il problema è che le cardiopatie, non abbiamo ancora capito quale la causano, tanto che si definiscono multifattoriali, no? Ci sono tanti fattori che concorrono, tu cerchi di agire su alcuni, però tutto sommato l'incidente è sempre fissa, no? E il problema della cardiochirurgia pediatrica è che mentre nella cardiochirurgia, diciamo, del paziente in età adulta, io posso cambiare i pezzi, no? Cambio le valvole, posso cambiare anche il cuore stesso. Nei bambini non è così, perché uno, non esistono i pezzi di ricambio, quindi è una chirurgia di tipo riparativo, quindi devo cercare di usare quello che ho e di preservare l'organo per farlo crescere insieme al bambino. Quindi è una chirurgia molto particolare, quindi studiandola al meglio, io posso trovare quella che è la soluzione più ideale. E la ricerca si sta spingendo sempre più, e quello che ci stiamo addentrando anche noi adesso, è di usare delle resine in queste stampanti che non siano sintetiche, ma siano biologiche, di modo che l'ideale è avere un materiale che tu puoi creare in laboratorio prima e andare a utilizzare nel paziente. Quindi personalizzare ancora di più la cura, personalizzando i pezzi che tu vai a creare, quindi dalle valvole ai condotti alle pareti, quindi dare un qualcosa che possa crescere con il bambino, quindi creare il sacro graal del materiale, no? Che un po' manca ancora, no? Questa è un po' la ricerca del futuro. Perché poi, come succede, abbiamo visto, queste volte questi materiali vengono colonizzati dalle cellule umane e poi crescono assieme all'organo? L'ideale è che qualsiasi tessuto venga impiantato va incontro alla calcificazione, che è la degenerazione che l'organismo pone a questo tipo di tessuto. Quindi levitare o far sì che un tessuto non calcifichi, ma che venga colonizzato e che possa crescere con il paziente, è il sogno dei cardiocirurghi pediatrici, perché troveremo un materiale che non deve essere sostituito. Quindi diamo al paziente non solamente un trattamento ideale, ma potenzialmente anche l'unico intervento nella sua vita. E a che punto siamo, quindi, su questo versante? Diciamo che la ricerca, adesso, noi stiamo lavorando sulla creazione di alcuni materiali biologici che possono essere impiantati. Ovvio che sono a fase ancora precoci, però io penso che in alcuni anni potremmo arrivare a, forse arrivare a un primo impianto anche nell'uomo. Però attualmente, diciamo che risultati sono incoraggianti e ci stiamo lavorando. Quello che lei mi ha detto mi pone un'altra domanda, appunto lei ha parlato di questo intervento, di questa possibilità di riparare e di agire con la microchirurgia cercando di conservare il più possibile le strutture del bambino. In molti casi, però, penso appunto da quello che mi ha detto, che il bambino con una patologia cardiaca sia destinato ad avere più di un intervento ad oggi. Sì, diciamo che nel caso in cui deve riparare delle strutture essenziali come le valvole cardiache, è ovvio che molto probabilmente spongo il paziente a più interventi. Quindi l'idea è di evitare il minor numero o evitare i tanti interventi nell'arco della vita. Ovvio che ci sono degli interventi che però hanno bisogno di più interventi, come le patologie univentricolari. Alcuni nascono invece che con due camere cardiache, con una sola. Ora, in questi casi ci sono almeno tre interventi che devono essere stadiati nella vita della persona per poterla portare a quello che è un quadro di normalità fisiologica. Quindi diciamo che noi siamo abituati a poter operare più volte nei bambini. Però questo fa parte di quello che è il percorso creato negli anni e che ci ha dato oggigiorno la conoscenza per riuscire a salvare quasi tutte le patologie cardiache. Quindi diciamo che non sono patologie non trattabili. Ce ne possono essere alcune più complesse, però diciamo che oggigiorno la maggior parte delle patologie sono trattabili. Il tema della diagnosi è molto importante perché appunto chi ha la fortuna di averla magari già durante la gravidanza così è già in stradato verso un percorso molto molto seguito. Immaginiamo, insomma, i bambini devono essere seguiti con il doppio ovviamente della precisione degli adulti che sono ancora fragili gli organismi in crescita. Però questa settimana è la settimana in cui abbiamo salutato Carlo Alberto, questo bambino di 12 anni che ha fatto stringere il cuore a tutta Italia. Ha morto nel corso di una corsa a Campestre. Noi abbiamo anche intervistato il centro di riferimento proprio a Padova che da anni studia anche queste morti bianche che arrivano quasi senza nessuna motivazione e che pongono appunto il tema della diagnosi. Quando non avviene in ambito appunto molto molto precoce, come ci si accorge di un bambino che ha necessità magari di avere degli approfondimenti? Ma diciamo che oggigiorno circa il 60-70% delle patologie congenite vengono diagnosticate in utero, almeno le patologie maggiori. Io penso che alcuni casi come questo di cui lei parlava sono morti che purtroppo hanno altri tipi di anomalie congenite che sono o delle anomalie di tipo elettrico o delle anomalie alla vascolarizzazione del cuore, alle coronarie. Quindi oggigiorno sempre più si presta attenzione a questo anche per la via dell'agonismo, del fatto che comunque c'è sempre più imperante ovviamente la necessità di sottoporre a controlli più accurati questi bambini che vanno incontro a esercizi o altre cose. Noi per migliorare questo stiamo sviluppando un progetto per l'intelligente artificiale nella diagnosi fetale. che consente di centralizzare dagli ospedali periferici all'ospedale di Padua, quindi un hub, tutto quello che è la patologia congenita del cuore. Questo perché? Per centralizzare in un centro di riferimento che ha tutte le specialità, quello che è il trattamento precoce. Ovvio però che alcuni bambini possono sfuggire a questo e questo ci aiutano i nostri colleghi cardiologi pediatri e i medici dello sport che sono sempre più sensibili a questi problemi e hanno sempre delle linee guida più strette per quanto riguarda i controlli che fanno in questi pazienti. Quindi oggigiorno purtroppo sfugge qualcosina ancora ma sempre meno perché siamo sempre più accorti e siamo sempre più precisi nella diagnosi. Questo è importante. Una patologia cardiaca in un bambino appunto piccolo si associa magari ad altre problematiche o spesso è magari un problema singolo? Ma diciamo che come dicevo prima nelle teopatogenesi delle patologie si chiama multifattorialità la concorrenza di più fattori. Uno di questi è la genetica. Quindi ci possono essere delle patologie che si associano a delle trisomie tipo la trisomia 21, la sindrome di Down o altri tipi di malformazioni come la sindrome di De George, la sindrome di Turner, quindi malformazioni genetiche le quali spesso si associano anche a delle patologie di tipo extracardiaco a livello renale, a livello polmonare che comunque trovano qui nel centro di Padova la consistenza di professionalità come la chirurgia pediatrica, la pneumologia e altro che comunque concorrono al trattamento concomitante di queste patologie. Infatti Padova è uno dei 15 ospedali italiani di eccellenza per quanto riguarda la pediatria in tutti i suoi ambiti. Proprio in questi giorni abbiamo dato la notizia dell'assegnazione lavori dopo le osservazioni della nuova pediatria di Padova che dovrebbe riunire in sé tutte le varie eccellenze e dinamiche che accadono dall'oncomatologia, la chirurgia pediatrica, la cardiochirurgia, ovviamente le degenze, tutti i ricoveri normali e anche un ambito di ricerca, essendo Padova appunto centro universitario e come avete sentito anche il professore ci ha parlato di quelle che sono le nuove frontiere, sono appunto tutti gli ambiti in cui si sta facendo ricerca in questa direzione come in tutte le altre delle specialità padovane. Certo sarà un bel sogno lavorare in una struttura così in cui appunto tutti voi che siete un po' sparpagliati potete anche dialogare insieme e formare insieme le nuove leve del futuro. Sicuramente questo sogno di questo ospedale ovviamente pediatrico che molti chiamano Children's Hospital di Padova è sicuramente un qualcosa che permetterà non solo di fondere le varie specialità insieme, di lavorare meglio ma anche di dare alle famiglie quello che è magari una facility più moderna e differente. Padova ricordo c'è il centro di cardiochirurgia pediatrica è uno di dieci centri in Italia adesso che cardiochirurgia ce ne sono tante cardiochirurgie pediatriche ce ne sono molto poche noi siamo l'unica realtà con un'unità operativa complessa in tutto il Veneto quindi io penso che anche l'ospedale pediatrico darà ancora più dignità e maggior polo di attrazione a quello che ovviamente è la nostra professionalità e ricordo che noi attraiamo circa il 40% dei pazienti da fuori regione quindi diciamo che offriamo un servizio che comunque attrae pazienti anche da altre regioni per la nostra professionalità. L'altro anno abbiamo visto l'inaugurazione della terapia intensiva pediatrica neonatale e anche lì è un ambito veramente entrare in un posto del genere veramente fa battere un po' il cuore prima di tutto perché i neonati nascono anche precocemente magari proprio perché ci sono dei problemi che magari mettono a rischio la loro vita vengono anche fatti nascere precocemente quindi vedere questo piccolo reparto per loro insomma fa un po' impressione. Ma per noi la patologia neonatale di Padova è un centro di supporto molto importante nel senso che le mamme con dei bambini con gravidanza a rischio la chiamiamo perché è una diagnosi fetale di cardiopatia vengono protette nel senso che le mamme vengono avvicinate al centro di Padova per partorire in sicurezza il neonato viene ricoverato in primis nella patologia neonatale dove viene perfezionata la diagnosi e dove noi ovviamente abbiamo un supporto molto importante per il trattamento prima ma anche dopo visto che come dicevo molti hanno patologie di tipo extracardiaco quindi i colleghi della patologia neonatale sono di valido aiuto nel poter coadiuvare il trattamento è tutto dimensionato a questi piccolissimi bambini e appunto la cardiochirurgia pediatrica non interessa solo i neonati ma ovviamente poi si evolve anche come abbiamo sentito il professore nel corso della vita dei ragazzi fino alla loro maggiore età voi li seguite poi per tutta la loro vita diciamo che adesso il cardiochirurgo che una volta si chiama pediatrico in realtà si chiama più congenito adesso che la cardiopatia congenita come dicevo vanno dalla diagnosi fetale alla persona in età adulta quindi ci possono essere delle diagnosi minori che vengono diagnosticate più tardi nella vita oppure i pazienti che noi abbiamo fatto sopravvivere trattati in età pediatrica hanno sviluppato delle problematiche che adesso devono avere un trattamento quindi alla fine noi condiviamo il trattamento anche insieme al cardiochirurgia dell'adulto dei pazienti che hanno bisogno di un trattamento o hanno dei sintomi in età adulta quindi ovvio che il paziente adulto con cardiopatia congenita non è un paziente non so che è un problema del coronario o altro ma è un problema molto specifico quindi ci deve essere un team multidisciplinare che lo tratta ed è un problema sempre più frequente perché la cardiopatia è una scienza molto recente anni 50 comincia anni 70-80 cominciano le prime correzioni di cardiopatia congenita quindi siamo a 40-45 anni da quando i primi bambini sono stati salvati e sono diventati adulti e quindi le problematiche che si stanno presentando adesso sono relativamente nuove quindi una frontiera nuovissima questa della cardiochirurgia del congenito adulto e quindi è una cosa di cui ci stiamo occupando ma ripeto ci vuole un team multidisciplinare perché ogni aspetto è importante in questi pazienti ma mai come in questi anni di pandemia abbiamo imparato che la medicina è una scienza sempre in evoluzione e quindi anche in questo ambito lei ci ha ricordato abbiamo un'esperienza limitata agli ultimi decenni e quindi si procede direi che di strada l'è stata fatta veramente da giganti tra l'altro lei è molto giovane ma ha già una lunga esperienza e ha potuto formarsi proprio con uno dei diciamo dei pionieri dei più grandi studiosi e chirurghi del mondo sì diciamo che nella mia vita ho avuto anche molta fortuna perché ho incontrato persone che sono quelle persone che incontri e cambiano il volto della tua vita e quindi ho avuto la fortuna di conoscere questa persona quel professor Castagneda che nella sua vita ha lavorato 23 anni all'ospedale pediatrico di Harvard a Boston e ha formato diciamo tutti i cardiochirurghi del mondo dopodiché all'età di 75 anni si è ritirato a casa sua che è il Guatemala e io ho avuto la fortuna di entrare in contatto con lui ho avuto un invito di andare da lui per essere formato quando sono andato non so neanche dove fosse il Guatemala in realtà poi lo sono guardato e lì ho avuto la fortuna di avere la conoscenza questo mentore una persona che non solo ti cambia dal punto di vista professionale ma umano che ti insegna la dignità per il paziente i rapporti con i colleghi quindi ti crea tra 160 gradi quella che è una formazione che penso sia una cosa molto rara ed è una cosa che mi ha detto se tu avrai la fortuna di poter un giorno accedere all'istruzione delle persone tramanda quello che è un messaggio di formazione perché la cosa più importante è lasciare e lasciare qualcosa certo io sono relativamente giovane a 48 anni però penso che già adesso cerco di dare più possibile anche mediante questa tecnologia che abbiamo i nostri specializzanti adesso come si chiama hanno un sistema per cui gran parte degli interventi possono essere simulati sul banco non sul tavolo operatorio ma prima su un banco di fuori dal tavolo operatorio quindi anche nel progetto formativo io penso e spero di poter dare quello che mi è stato dato perché comunque la vita è un po' una ruota giustamente bisogna dare se è ricevuto intanto visto che la vita è un po' una ruota prima mi raccontava che il Venezuela è tornato nella sua vita anche in questi giorni perché una parte dell'attività dell'azienda ospedaliera di Padova come degli ospedali del Veneto riguarda anche l'accoglienza di pazienti che nei loro paesi non possono avere le cure le cure necessarie quindi che arrivano un po' da tutto il mondo in questi giorni proprio un bambino dal Venezuela noi abbiamo la fortuna di poter essere aiutati dalla Croce Rossa italiana e da una ONLUS padovana che è l'associazione Un Cuore Un Mondo che comunque ci aiutano in questo processo in cui la regione Veneto e l'azienda ospedaliera sono il fulcro che ci consentono di portare dei bambini che non avrebbero accesso alle cure nel loro paese all'interno dell'azienda per essere curati quindi la prossima settimana avremo un bambino dall'Etiopia e un bambino dal Venezuela posto che a me è molto caro vicino al Guatemala posso parlare spagnolo con questi pazienti quindi non serve neanche l'interprete nel farlo comunque penso come sia magari un viaggio di una famiglia di un paese dove la sanità sicuramente sappiamo cosa è successo al Venezuela l'abbiamo visto in tutti i telegiornali hanno vissuto una tragedia immensa mancava tutto da mangiare da bere qualsiasi servizio sanitario arrivare da lì a qui un centro di eccellenza la ricostruzione in 3D del cuore è uno shock per queste persone arrivare in un paese shock positivo intendo noi diciamo che da anni lavoriamo con la Croce Rossa al progetto Venezuela quindi non è il primo bambino che arriva al nostro centro ed è interessante perché comunque non sono bambini fortunati che arrivano ma no abbiamo un cardiologo locale con cui collaboriamo quindi sono famiglie che comunque sono privilegiate sicuramente ma che comunque rappresentano un piccolo tassello di quello che è un grande progetto che è Regione Veneto azienda ospedale di Padova e noi Cardiochirurgia stiamo facendo ovvio che poi queste famiglie ovviamente sì per carità trovano in me una fonte di conforto anche perché parlando la lingua in maniera discreta insomma e poi chiamandomi in un certa maniera il mio cognome in spagnolo vuol dire vita quindi essere operati dal dottor vita ha un certo impatto voglio dire tutto fa tutto fa anche lo spirito fa quando si deve guarire quando si deve affrontare un intervento in questo caso come se tutta la famiglia venisse in sala operatoria ogni volta e immagino che anche il post operatorio abbia bisogno di tutta una serie di attenzioni particolari nei confronti dei bambini e delle famiglie sì diciamo che il nostro operato non è solamente la fase di sala operatoria ma è tutto quello che avviene dopo nel senso che il bambino con cardiopatia congenita ha un cuore che è completamente stravolto quindi anche dopo l'intervento in cui tu migliori la condizione anatomica e fisiopatologica io dico sempre che il cuore non se ne accorge subito ma ha bisogno di 48 ore 72 ore per abituarsi a questo quindi ovvio che questo ha bisogno di una cura intensiva in cui spesse volte ovviamente anche lì ci condiviamo di varie figure professionali in un progetto di team multidisciplinare quindi diciamo che è un percorso complesso maggior parte delle volte che occupa molte ore di lavoro molti sforzi ma che facciamo perché io dico sempre che io i miei collaboratori siamo uniti da un'unica cosa che è la passione per quello che facciamo che è curare i bambini con malattie al cuore e questo è motivante motivante perché quando vanno a casa curati per noi è la cosa più importante senta ci hanno bombardato un po' con questa pandemia con l'idea che comunque lascerà un seguito sul cuore delle persone soprattutto per chi l'ha presa magari in maniera più pesante sui bambini cosa sta succedendo e che ci sono degli studi e delle previsioni per il futuro o delle preoccupazioni o? Ma diciamo che si sa ancora poco secondo me nel senso che i pareri sono molto contrastanti vediamo che ovviamente la vaccinazione è sicuramente quello che ti protegge da avere alcune problematiche che vengono dopo l'infezione da covid-19 queste problematiche che sono non relativamente frequenti si chiamano MISC sono delle problematiche che possono interessare l'apparato circolatorio e polmonare e quindi lasciare di reliquati anche a distanza di tempo quindi ovvio che la vaccinazione è quello che ci ha salvato che ci continua a salvare però purtroppo molte persone hanno avuto il contatto con il covid in una fase prevaccinale quindi noi siamo fortunati perché ripeto rispetto alla popolazione adulta i contagi e gli strascichi sono molto meno importanti però ovvio che è una qualcosa di molto nuovo quindi diciamo che adesso forse è troppo presto ancora per parlare di quelle che sono le patologie correlate ci vorranno degli anni per capirle però fortunatamente almeno in ambito pediatrico non sono così frequenti e ripeto la vaccinazione ci ha sicuramente salvato e come avete lavorato in questo periodo avete potuto operare con tranquillità o avete avuto delle conseguenze anche sulle liste d'attesa visite ma diciamo che è ovvio che la pandemia ha avuto la precedenza su tutto come tanti pazienti che hanno avuto problematiche di tipo respiratorio e quindi diciamo i posti in terapia intensiva che sono stati occupati hanno ovviamente trovato posto anche nelle terapie intensive della cardiochirurgia quindi diciamo che l'attività è stata un po' ridotta per sopperire quelle che sono le esigenze al momento più importanti ovvio che le liste d'attesa sono un po' allungate però per fortuna l'azienda ci ha sempre garantito la possibilità di operare essendo la nostra una chirurgia maggiore e quindi alcune problematiche soprattutto quelle urgenti o che erano non differibili sono state trattate senza garantire grossi ritardi quindi alla fine fortunatamente siamo stati in grado di fare il nostro lavoro un po' ridotto però sicuramente non abbiamo avuto problematiche insomma la lista d'attesa in questo ambito qui ovviamente penso che avviate delle pressioni molto forti anche da parte delle famiglie poi per cercare di rimediare velocemente noi intanto abbiamo finito il nostro tempo a disposizione è stato un viaggio nuovo anche per me che non conoscevo bene questo mondo tutto cambia nonostante di anno in anno magari vi portiamo gli stessi argomenti ma vedete che di anno in anno cambia tutto anche all'interno delle strutture sanitarie e per fortuna perché si cerca sempre di migliorare grazie al professor Vladimir Ovida per essere stato con noi bocca al lupo per il proseguimento la prossima volta speriamo di vederci senza pandemia così tra un annetto chi lo sa grazie 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 a voi buona giornata arrivederci grazie a tutti